Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Andrea Lanciotti e sono il vostro tecnico digitale e oggi sono qui a farvi vedere come mettere il menu Dark sul decoder SkyCube Black o SkyCube Platinum. Premete il tasto Home, andate su Impostazioni, andate su Accessibilità, Contrasto elevato e il vostro schermo diventerà black. Se questo video ti è piaciuto lascia un like e iscriviti al canale. Ciao al prossimo!